Si chiamava Leah Rogers, purtroppo è morta ed era una ragazza di soli 17 anni di età. È morta per colpa di una rarissima malattia del sangue, dopo essere tornata ad una vacanza in Spagna, la ragazza che è venuta dal Galles ha fatto questo viaggio senza i genitori, a ritorno però ha, diciamo così, creato, o meglio, ha iniziato a stare molto male, i medici l'hanno visitata, tonsillite, degli antibiotici sono stati somministrati, le condizioni della ragazza però andavano a peggiorare molto e quindi si rivolta agli ospedali, quindi c'è stato il ricovero ospedaliero interamente in Siva. È stata investigata una rarissima malattia del sangue che si chiama linfostiocitosi emofagocitica. Niente da fare, la ragazza quindi che era bella, sexy, dolce, meravigliosa ed altruista, purtroppo ha perso miseramente la vita a soli 17 anni di età ed è un'età veramente poco levata. Da Merdoidea tutto, Lia Rogers riposi in pace.